Dobbiamo anche stare attenti, caro Stefano, quello che diciamo, perché hai visto la sorte di questi due cronisti della Rai che, sì, vabbè, io ti dico sinceramente, potevano risparmiarsi queste stupidaggini, non era una cosa che non facevano ridere nessuno e così sono solo delle volgarità, non capisco per quale motivo uno debba dire queste cose mentre commenta una gara. Detto questo, insomma, adesso si trasforma tutta la Rai, tutto l'impianto culturale, tutti i giornalisti che non stanno a Repubblica in sessisti e pericolosi retrogradi e bigotti, anche qui, insomma, non credo che ce li abbia messi questo governo, questi due simpaticoni che commentano il nuoto, hanno detto delle stupidaggini veramente sesqui pedali e giustamente vengono sanzionati. Peraltro non era nemmeno la prima volta, ma al di là di queste questioni che ovviamente tengono banco perché sì, perché sono la polemica di giornata, bisogna dire, dopo il caso Facci e le frasi sessiste, bisogna dire che c'è tutto sessismo dappertutto, che la destra riporta indietro di mille anni i rapporti tra maschi e femmine. E mentre parlano di queste cose, poi dopo ci sono sentenze che consentono a un maschio dotato di organi genitali maschili di entrare nei bagni delle donne. Ecco, attrapano esattamente. Allora io mi domando cos'è sessismo, cioè sicuramente dire delle scemenze come quelle che hanno detto i, non voglio definirli colleghi, insomma, della RAI, però io ritengo che al fine di discriminazione delle donne, anche dire su sentenza che un uomo può definirsi donna, insomma, potremmo discuterne a lungo che cosa sia peggio. Guarda, ieri ho parlato con l'avvocato di questo signore, anzi signora perché dobbiamo chiamarla Emanuela come è stato stabilito dal giudice e veramente io non riesco a capire qual è la, cioè, nessuno l'avrebbe discusso, un uomo gay, qual è il problema? Perché deve essere definito donna se non ha fatto nessuna transizione, se non ha fatto nessun trattamento ormonale, se non c'è stato nessun intervento? Non ha senso, veramente? Eh, questa è la moda, no? Cioè, anche qui confondiamo, no? Un orientamento sessuale con una questione biologica, no? Ed è una confusione veramente deleteria, peraltro si sta imponendo a vari livelli, ci sono per esempio un sacco di scuole che stanno facendo, stanno introducendo questa carriera alias, si chiama, cioè dando la possibilità ai ragazzini, no? Di, appunto, cambiare sesso formalmente, cioè sui documenti, già minorenni tra l'altro, quindi insomma è abbastanza rischioso, io credo che sia una deriva veramente, veramente molto pericolosa, peraltro alcune nazioni che l'avevano introdotta, come ad esempio la Gran Bretagna, stanno tornando indietro.